Per la vita, la finale è rimasti 3000 punti, superato il riguardo del 07 che prevedeva esclusivamente lo sfido della campana, sul prossimo 4-4-6 verranno assegnati i primi punti validi. Torniamo al finale, questa volta più fa la qualifica, ma già la finale, qui ci sono paio i titoli provinciali per riaglificare. Tra l'altro che è meno 6, attenzione a 3, punti in paio per la vostra personale e sicilità, puntare il futuro. Guadagni a 2 punti, il concorrente numero 14, Cittoria Giorelli, guadagni a 1, il concorrente numero 31, Maggiori Lorenzo. Questo ha di più seleta la conclusione. Granno 5 giri sul prossimo 4-4, il gruppo sta marciando, riguarda la carriera sul percorso, la cura, vediamo già in cura, la cura che può facciare la scelta, sulla grano di meno 5, dove verrà la scelta, il miglioro, per la loro passione. Guadagni a 2 punti, il concorrente numero 50, riguarda 1, il concorrente numero 31, con il concorrente numero 100, mignazza caristia, questo ha la passaggio dei meno 5 giri a la bambina. Siamo ormai già in prossimità di Stavazzatura, questa terminale di Stavazzatura, tra l'altro giorno 24, 4 all'anno in punti in paio per la vostra personale. Guadagni a 2 punti, il concorrente numero 31, il concorrente numero 14, Citeria Ocetegna, il primo 22, il 4 all'anno in punti, il concorrente numero 50, riguarda 1 punti, il concorrente numero 52, il concorrente numero 53. Questo lo viene superato nel passaggio dei 4 giri alla connessione. Siamo ormai già in punti, il concorrente numero 31, il concorrente numero 31, il concorrente numero 31, il concorrente numero 31, il concorrente numero 34, si può raccontare a 5 punti con il Stavazzatura. Il concorrente numero 25, Conti e Matteo, si viene fermato. Il concorrente numero 25, Conti e Matteo, si viene fermato. 4 punti con il concorrente numero 31, 2 punti al concorrente numero 50, Siamo con lo sfino della campana dell'ultimo giro, anche di tutti i volanti su questo passaggio dell'ultimo giro. Siamo con lo sfino della campana dell'ultimo giro. Siamo con lo sfino della campana dell'ultimo giro.